23 dicembre 1896. Nasce a Palermo da un'antica famiglia nobiliare Giuseppe Tomasi, duca di Palma e principe di Lampedusa. Eugenio Montale lo definisce come uno di quegli scrittori di un unico libro. Il gatto pardo vince il premio strega nel 1959 e nel 1963 viene tradotto in film da Lucchino Visconti. Bert Lancaster interpreta la parte del principe Fabrizio Salina. Curiosamente anche Giuseppe Tomasi di Lampedusa muore, come il suo protagonista, in una modesta camera d'albergo a Roma, lontano da casa e alla ricerca di cure mele.